40 giorni da Presidente Sinfer dopo il Congresso di Genova. Un primo bilancio di questo periodo che è già molto intenso, ha già due consigli di presidenza, vari incontri in città italiane. Le sue prime impressioni, Professor Fiore. Sì, grazie per avermi dato questa opportunità. È stato questo un periodo molto intenso. Allora, innanzitutto ci siamo già riuniti. Il Consiglio di Presidenza si è riunito in ben due occasioni. La prima nell'ultima giornata del Congresso di Genova, che si è tenuta a ottobre, e poi l'ultima il 25, la seconda praticamente riunione del Consiglio di Presidente, il 25 novembre a Roma, sempre a Roma, in occasione del Congresso del Professore l'organizzato dal Professor Santillo sulle lulline guida in riabilitazione. Noi abbiamo già, tanto per anticipare, per aiutare i soci anche a prenotare voli o anche il viaggio per Bari. A Bari si terrà il prossimo anno, il 24 febbraio, l'Assemblea nazionale dei soci. L'Assemblea è un'occasione innanzitutto per rivederci dopo il Congresso di Genova, ma soprattutto per la modifica dello statuto della nostra società scientifica. e quindi io vi invito tutti, ecco, già a prenotare il biglietto per Bari e per partecipare alla prossima Assemblea dei Soci. Questo appuntamento è molto importante perché ce lo richiede il Ministero, quello dell'affrontare una revisione e una modifica dello statuto in linea anche con i principi che sono stati dettati dal Ministero della Salute. Questo perché? Per far sì che la nostra società sia accreditata al Ministero e come ben sapete è uno dei criteri più importanti che ovviamente viene messo in evidenza dalla legge Gelli sulla responsabilità del medico. Ovviamente ci sono altri appuntamenti che riguardano il Consiglio di Presidenza stesso. Noi avremo la prossima riunione il 15 dicembre, poi un'altra, una successiva, il 18 gennaio, e poi un'altra il 23 febbraio, prima dell'Assemblea dei Soci. e il 16 dicembre, quindi fra quasi 12 giorni, avremo un brainstorming e avremo praticamente l'ultima fase dell'approvazione del documento sull'ambulatorio, quindi sulle strutture ambulatoriali della medicina fisica, che riguardano la medicina fisica e la riabilitazione. Una cosa importante che voglio precisare, noi siamo, io insieme anche agli altri delegati, agli altri consiglieri, abbiamo partecipato al congresso, come avevo detto prima, di Walter Santilli, che è stato un congresso abbastanza importante e è stata l'occasione, almeno per impattare questa problematica importante della proposta delle linee guida in medicina fisica e riabilitazione, che ci deve coinvolgere sempre più come società scientifica durante il prossimo anno. non riguarda soltanto le linee guida, riguarda anche le best practice nell'ambito delle attività, sia dei ricoveri ospedalieri, sia delle attività ambulatoriali e qualsiasi tipo di attività svolta dal medico specialista. Ovviamente ho partecipato anche con altri colleghi al nono corso dell'euro mediterraneo organizzato dal dottor Franco Cirillo a Siracusa e io sono stato veramente colpito dalla presenza, sapete che era riservato a 40 soci e c'era il doppio del numero dei partecipanti, quasi 80. La maggior parte delle presenze era da parte dei colleghi che afferiscono i paesi del Mediterraneo e quindi abbiamo avuto fisiatri anche del Sudan, tanto per intenderci. e un'altra recente presenza è stata quella delle giornate di pace, delle giornate che la sezione Sinfer delle Marche organizza in memoria del carissimo amico Pasquale Pace, anche come ben sapete che è un presidente onorario della Sinfer. e si è dibattuto soprattutto sull'ictus. Quindi due saranno le tematiche più importanti che il Consiglio di Presidenza, che il Consiglio di Presidenza, anzi due o tre saranno le problematiche più importanti. una è sulla linea sulle linee guida, l'altra sulla modifica dello statuto e l'altra soprattutto sull'insistere, sulla partecipazione, sull'inserimento della competenza del medico fisiatra nell'ambito del decreto 70 del 2015, che riguarda gli standard requisiti delle strutture ospedaliere, soprattutto per quanto riguarda la formazione della rete. Una priorità sarà appunto quella di formalizzare degli interventi e degli inserimenti importanti per quanto riguarda la rete ictus, di cui si è parlato, come avevo già detto, a Treia in occasione delle giornate pace.